Oggi siamo al bar Marisa di Scandicci e assaggiamo un cremino crema e cioccolato e l'espresso italiano. Prima il caffè, tossitura buona, crema color nocciola, buon profumi, corpo, freschezza. Ora assaggiamo il nostro cremino, profumi di pasticceria, è fragrante, a burro, la crema, la vaniglia, il cioccolato e riescono fuori tutti i profumi di frutta secca del caffè. Ora un altro sorso di caffè. Amaretto, pan biscotto, tutti i profumi del caffè del cremino si esalta una vicenda. Un altro mossino. Il calamaro. Profumi di tostato, di caramello. Spezie, buonissimi.